Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come fa? Spero tutto Super, 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 super bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video, video Oggi è un video strepitoso per voi Infatti oggi potrete ammirare, diciamo, il gameplay di Assassin's Creed Valhalla Finalmente ieri, ovvero il 10 novembre, è uscito e io lo sono andato a ritirare immediatamente Eccolo qui, questa è la sua confezione E non vedo l'ora di mostrarvi, appunto, come è strutturato, appunto, come videogioco Io per quel poco che l'ho giocato l'ho subito amato, quindi spero sarà lo stesso per voi A mio parere verrà un super, 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 super video Ma questo era un gameplay che aspettavo davvero tanto di poter registrare Senza perderci troppi in chiacchiere Io, prima di cominciare, vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Perché per me è la cosa più importante in assoluto E in più, andatemi a seguire anche su Instagram Trovate il link in descrizione Ci sono tutti gli aggiornamenti sul canale Detto questo, io non posso far altro che augurarvi Buona visione e buon gameplay Eccoci qua, ragazzi Siamo ufficialmente su Assassin's Creed Valhalla Come potete vedere qua Sono all'interno, appunto, di questa grande costruzione Dove sono venuto a liberare i miei compagni Perché in questo gioco, appunto, di vichinghi Io dovrei essere, se ho ben capito La guida, diciamo, una sorta di re In realtà ero il figlio della re Che purtroppo è morto Sacrificandosi per il suo popolo Ecco, qua abbiamo già i primi cattivi Che andiamo a far fuori immediatamente Vi ricordo che... Voi ricordarvi che io non ci gioco da una vita questo gioco Purtroppo potrà succedere che andrò a morire un po' di volte Ma è normale Anche perché proprio vi ho detto Non ci gioco da... Da una vita Oddio, ecco che sto a finire Sto facendo un casino Questo ci pensa lui oppure ci devo pensare io Perfetto Morto Abbiamo questo qui che poi precisamente Ecco, attacco Vedete qua posso fare questo attacco che la uccide in automatico È la cosa migliore da poter fare Anche qui questo abbiamo fatto fuori Comunque gli amici miei sono un po' indicappati, diciamo la verità, eh Ecco qui, facciamo fuori tutti quanti Questo è l'attacco quello veloce Ok, 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 ok Comunque potete notare anche quanto è ben fatta la scena e tutto quanto Proprio il letto intorno, com'è strutturato il gioco a me piace tantissimo Allora, cerchiamo qua Qual è il cattivo? Che poi mi confondo anche Ecco possiamo fare lo sturdimento Ok, uccisione automatico E qui mi fa vedere anche, vede, posso colpire, scapire dove colpire esattamente Ok, ok, vediamo qua, vediamo qua Allora, questo lo facciamo fuori molto facilmente Oh, un altro botta Ale E anche questo l'abbiamo fatto fuori Non ce ne dovrebbe essere E ce n'è un altro Dico i macchini che non spavano così a caso All'infinito in pratica Fatemi andare a far uccidere anche questo Oppure no A posto Dovremmo esserci liberati di tutti quanti Intanto vi faccio vedere un po' nei dintorni Guardate com'è, c'è proprio la grafica A me, secondo me, è molto importante anche la grafica Molto spesso si sottovaluta in alcuni giochi Dicono meglio il gameplay, eccetera Però anche la grafica, a mio parere, non è niente male Ci diamo anche questo Ok, perfetto Adesso dovrebbero essere morti tutti Qui potete vedere che possiamo prendere anche il bottino Depreda Eh, ok, abbiamo depredato Lì, fatemi vedere qua Che c'è rimasto qualcosa Ah, qui per le piante Perché queste piante ci ridanno la vita Come avete visto Questo raccoglie il camemberu Poi me lo dovrebbe dare per la vita successiva In teoria Allora, 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 allora Adesso dobbiamo andare Vedete qui sopra nella parte superiore Ci fa vedere dove dobbiamo andare alla direzione Per andare a salvare i miei amici Intanto qui dovremmo avere raccoglite Preda Perfetto Allora abbiamo prezzo raccogli Questo è per raccogliere il corpo Perfetto Intanto vi faccio vedere un po' la visura Perfetto Quanto Si vede però che siamo in una zona vichinga Diciamoci la verità Allora, ecco gli altri Mannaggia, ma quanti sono? Sono tantissimi No, quelle frecce li odio Quelle con le frecce li odio Li odio Li odio Però almeno non sono per niente protetti E in pratica si dovrebbero uccidere più facilmente E poi state a vedere che di tanto facile poco ci sta Abbiamo la Abbiamo una laccatina normale Perché Sto giocando con la play collegata al remoto in pratica Perché se no Ok, aspettate che posso raccogliere questa per prendere la vita Perfetto Abbiamo la vita ricaricata Alla grande Allora Facciamo fuori anche questo Perfetto Fatto fuori Dico a chi abbiamo che sta combattendo Comunque anche noi abbiamo l'arco Però se sta mi combattendo Ma con chi sta a combatte? Ma Uccidilo Ogni tanto proprio so Quello del gioco non so capace Cioè in pratica quanta vita gli avrebbe tolto E niente gli ha tolto In pratica non gli aveva tolto niente E vabbè lasciamo sta guardate Se no Impazzisco Ok Tranquillo Non c'è più niente Freccia Abbiamo preso le frecce Là sopra chi ci sta? Oh madonna mia Stanno a combattere anche sopra È tutto un combattimento di qui Tanto vediamo questo mio alleato Perfetto Posso raggiungere la nave un po' Vediamo qua Raccogli l'elemento Raccogliamo tutto Ma quanto ci ci vuole Uccidilo Mannaggia Quando fanno così Guardate ragazzi Mi verrebbe vuoi Non so di che fa Ok perfetto Adesso dovrebbero essere morti tutti Dovrebbero Dovrebbero Allora la nostra nave Si trova qua sotto E abbiamo ovviamente Un altro combattimento Oppure no Ecco Questo è con me Ok perfetto Ecco la nave ragazzi No dobbiamo andare a prendere questa nave Esti stanno a fare un altro combattimento Ma Poi se ne arrivo io questi Ma guardate Mi ha fatto pagare tutto quanto Oddio ragazzi Si è pagato tutto quanto Che è successo Che è successo Riprendiamoci Riprendiamoci Ma questo è con noi oppure Sì è con noi Vabbè Eccola qui Eccola qui Noi dobbiamo andare a prendere qualcosa Qui per caso Oppure no No Che è successo Dove sono finiti tutti Perfetto Prendi il comando E adesso ci abbiamo da guidare la nostra nave Allora Allora Apriamo la vela Forse andiamo più veloci Ok Dove dobbiamo andare In pratica A duemila Ci abbiamo da fare duemila metri Che non dovrebbero essere Troppo difficili da fare Perché abbiamo la vela E si va molto molto più veloce Quindi questa è una cosa positiva Diciamo Intanto rimettiamo a fuoco la fotocamera Che ogni tanto fa brutti Ah sei silenziosa Eiffel Non hai niente da dire sulle tue colpe Questo è l'amico Oggi non abbiamo subito perdite I uomini che ci hanno umiliato Sono morti O qualcosa come Sono stato stupido Ecoista Incosciente Cieco Testardo E puzzo di sangue Preferisco la mia versione Ok Intanto noi ci dirigiamo da questa parte Sperando che Vada bene come direzione Comunque sto seguendo la parte sopra Quindi Dovrebbe andare Dovrebbe andare Speriamo Speriamo Guarda stanno costruendo un avamposto su quell'isola Eh uomini di che Stato Focalizza che significa Mi sa che Ah ecco qua ci fanno vedere Anche fossimo morbidi Li spezzeremo via facilmente Ok Puoi razziare i piccoli insediamenti situati sulle coste con il tuo equipaggio Proviamo a razziare Proviamo a razziare questo piccolo equipaggio Razia 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 Vediamo Vediamo un po' Se possiamo razziare questo posto Andiamo Poi se vediamo le brutte scappo sulla nave Si fa tanto presto Non è che Che ci vuole moltissimo ragazzi Ok Allora un po' vediamo Vabbè Io devo Giustamente sono io leader Ah beh Ma qui sono pochi Sono pochi Sono pochi E vado a rubare le kill Agli altri Ah Oddio come l'ho fatto fuori Questo è il più forte Questo è il più forte mi sa Ok Ma che urto Che urto Quelli con le frecce Guardate ragazzi Quelli con le frecce Proprio da evitare Non devono esistere sui giochi Ok ok ragazzi Ce la stiamo cavando bene Devo dire la verità Allora andiamo a vedere qui chi abbiamo Abbiamo qualcuno Questo qui Non mi sta simpatico Allora intanto qui possiamo depredare Vedete che mi dà depreda Ah Razione Razioni al massimo Aia Non dobbiamo più prendere A prendere niente Ah mannaggia ma Senza di me questi fanno niente in pratica Eccone un altro Ah no sta con me E' che a tutti i sozzurri poi arriva quello che ne è azzurro Scusate eh Qui devi depredare qualcosa Ah le frecce le frecce le frecce Sono molto molto utili ragazzi Gli archi ovviamente però Quando siamo a zona a lunga distanza In questo caso Come avete visto Non è che Oh abbiamo un super scrigno qua dentro Depreda forsiere Il forsiere non uno scrigno Mordio Ossa Ricchezza ottenuta Mi sappiamo una cosa nuova Qui potete notare Il mondo Noi siamo qui Che dobbiamo raggiungere questa zona in pratica Salpa verso Formburg Ah no Formburg Dopo dov'è però Vabbè comunque questa ragazzi È la mappa di tutto il gioco Vedete che Io ho esplorato soltanto questa zona Poi qui vedi avete lingotti Quindi vuol dire che ci sono qualche ricompense Però se noi andiamo su inventario Andiamo su inventario Abbiamo nuove armature A quanto pare Oh bella armatura del clan del corvo Bella Ok mi piace Poi qui abbiamo Il mantello Ce lo mettiamo Ok Qui abbiamo una nuova arma Mi sa E Accipicchia Morti Ossa E Incremento stordimento Credo che metterò Lascia di Farin Forse La preferisco Poi abbiamo anche questo Ok come Abbigliamento scarpe E poi abbiamo anche I parabraccia Che li mettiamo Guardate com'è venuto fuori il personaggio Super ragazzi Stupendo E' venuto proprio stupendo Comunque mi piace un botto Qua come gioco Qui codici Database Ci fa vedere altre robe Che adesso non ci interessano Perché abbiamo da scappare Per sal... Cioè da salpare Più che da scappare Sono gli altri che devono scappare da noi Meglio che non ci incontrano in giro Morti Ossa Ok Quella perché È anche la città che l'abbiamo presa Allora prendi il comando Ok Apriamo le vele Perché si fa molto Prima A navigare E apri la vela Qui non è... Ah beh qui non è possibile spiegare la vela Ok Vediamo se qui è possibile Ok Perfetto Allora aspettate che qua mi sto incartando Ok 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 Possiamo andare Allora non dobbiamo andare da questa direzione Però mi sa che da quella direzione è tutto bloccato O no Ah no mi sa No 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 Dovrebbe essere libero Cioè perché se non è libero per dove dobbiamo passare ragazzi È per forza libero Cioè questo non so se significa mare o monti Però dovrebbe significare ancora mare Vediamo un po' da qualche parte ci dovrà portare Spiega la vera per navigare Ok Non mi sorprende questa guerra prosegue da generazioni Aspetta certo che si tiri indietro L'odio per quell'uomo ti brucia dentro Morso di lupo Ci potrebbe scaldare la pelle Allora continua a guardare se la mia direzione è giusta Ok Perché tanto mi sa dobbiamo lasciare la nave qua Per forza Perché non ci arriva il mare E stai attento Eifor Ciò che ha fatto tuo padre l'ha detto a noi Non sei solo in questa guerra Salva verso Vornburg Qui è una zona dove potremmo attraccare possiamo dire così ragazzi Sì possiamo attraccare lì Anche perché non c'è altro modo per raggiungerla Cioè se non c'è davanti a noi il mare è l'unico modo Perché se passiamo per quelle montagne là in mezzo Per qua forse riusciamo ad arrivarci un po' Aspettate ragazzi proviamo ad andare da questo lato Perché forse 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 c'è la possibilità di arrivare Ci fatemi Scusate che proprio con la mappa io c'ho da fare però Allora messa a tre di là dobbiamo andare Allora facciamo questa prova Se girando di qua non mi porta nulla E credo proprio che sia così Sì Ok 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 quindi devo andare di qua Devo andare di qua Devo andare di qua È giusto così Dai 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 E no la vera l'hanno chiusa sti tonti ecco perché stavamo andando a piano Infatti non capivo Non capivo il motivo per cui stavamo andando in quel modo piano Ok ok Comunque ragazzi intanto ditemi anche cosa ne pensate di questo video gioco Questa secret padella Allora intanto rimettiamo a fuoco la fotocamera Ogni tanto si Sfuoca diciamo Non so se è un termine giusto E qui è la strada giusta Ok abbiamo trovato la retta via La retta via da raggiungere No comunque i gameplay da fare sono una roba pazzesca secondo me Eh ti darà una pazzella Ok la farà Allora vediamo un po' se dobbiamo girare da questa parte Sì perfetto 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 Io diamo soltanto che il nostro rimiterà E sì guarda lui cosa direbbe Eh se il queer te fosse qui sarebbe seduto accanto a te Intenteremo di rilasciare il sangue Giustamente sono vichinghi Quindi non è che sono tanto docili o tranquilli come popolazione Allora 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 È la giusta via la giusta via Sì ragazzi sì vai 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 Ah cosa dirà il nostro re di questa disavventura Solo la verità che abbiamo attaccato alla fortezza di Kyateuf Uccise sui uomini e indebolito il suo potere Compresa la parte in cui hai perso la tua giornata e sei stato quasi venduto Sarà incluse nella tua saga Se uno scalda cantasse mai con la strofa sarebbero i suoi ultimi versi Che carini che sono Si vogliono molto molto bene fra di loro diciamo Ok aspettate ragazzi che allora Lasciamo la nave qui Oddio vai piano vai piano vai piano Attracca Attracca un nuovo punto di vantaggio rapido è stato aggiunto Ok Io direi che possiamo tranquillamente scendere Perché siamo arrivati a destinazione Allora vediamo un po' qui che ci hanno da dire Ecco qui luogo scoperto E qui abbiamo da parlare quanto pare Parla E crediamo di averti perso Eiffel E stavolta per sempre Caloroso come sempre Calorosa Sempre coperto Che è successo? Niente di cui vantarsi Ma posso dirti che i responsabili sono morti Tu come stai? Non male anche se ho trascorso giorni interminabili a placare le ire del nostro re Non l'hai reso felice Me lo aspettavo Ha fatto il ritorno delle sue razzie Shugard Mi sembra un po' Mio marito dovrebbe tornare oggi Le ultime notizie le davano vicino a Stumpengar Comunque sono tutti questi nomi del nord Un'ottima notizia il suo curato Ok? Non ti salverà dal dire del suo padre E voi ormai dovresti saperlo Questo è Tag Un nuovo personaggio scoperto Avete avuto qualche imprevisto Accade spesso con le razzie Ma abbiamo ucciso molti uomini di Kiotof E ho trovato Che ha trovato Questa L'ascia di mio padre Ah si ragazzi quella che sto utilizzando adesso di fatto L'ascia che aveva suo padre Che è se giocherete appunto al gioco vedrete che si è sacrificato per il suo clan E che però dopo non è stato ugualmente risparmiato Purtroppo Si è sacrificato per nulla in pratica Aspetterò dice il nostro caro Eivor Sempre piuttosto cuopo qualcosa non va E rivedere l'ascia di mia madre dopo 17 inverni ha risvegliato qualcosa in me Perché è da tanto che era successo ragazzi Che non provavo dal giorno della sua morte Da quando ho ricevuto questa Che ha ricevuto Tre sei ricordi del passato Torri dolorosi Si perché d'altronde lui poi scappando era scivolato Era successo un disastro ragazzi Non potete immaginare Prenditi il tuo tempo e ti aspetta la casa lunga Che in pratica la casa lunga dovrebbe essere l'abitazione principale del villaggio Ma in affilato Eivor proprio come quell'ascia Forse Kundera può sistemarvi Te lo farò sapere Missione completata ragazzi Ottimo legame d'onore Una bellissima missione a mio parere Eivor è una brutta Ah siamo arrivati a due punti talento Quindi credo dovrebbe significare il livello 2 Eivor ci ha portato dei tesori Con una parca da giurma sono i tesori più grandi Quelli non contano ti serve l'argento e i gioielli I pampini zitterò Tu che ne sai non è mai fatta razzie Qui vedete posso fare tutte queste parlare con i cittadini Considerate che vediamo questo se parlo che mi dice Preso niente No no ci pesci non abboccano ci sono troppe barche che agitano l'acqua Vabbè vabbè Mi manca la pazienza per la pesca credo che avrei più fortuna con l'arco Ti ripeto le frecce pesci certo che può funzionare La voglia se può funzionare Comunque ragazzi è troppo 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 bella Mi poi giochi con queste grafiche mi piacciono troppo Ale tu sono finito E sono caduto Sono caduto su un crepaccio non lo so che Allora vediamo dove può stare una nuova missione che dovrebbe essere quella lì Ci sarà da divertirsi tanto questi parlano Ecco qua una nuova missione da prendere Parliamo vediamo che ha da dirci Bentornato Canare ho qui qualcosa che dovresti vedere Vediamo che abbiamo da vedere Per il tuo notitore Lascia di tuo padre Non vedevo Non vedo questa Bellezza da beh Da molto tempo Ci dice il nostro caro amico Ho fornato quest'arma anni fa è ancora buona Ne vado piuttosto fiero Grande allora La sua lama è smussata ma ha un buon fondente Puoi affilarla Posso darti una lama migliore a rinforzarla E rinforzare il manico E fortuna vuole che abbia un lingotto pronto per il lavoro E sei sicuro? Il fatto ha voluto così ma in futuro dovrai portarmi tu i lingotti D'altronde E non si forgiano dal nulla Giusto? Giusto Ok migliore attrezzatura se potresti Ok però il lingotti non ce l'ho Perfetto Migliora la qualità E ci siamo Abbiamo migliorato la qualità E adesso vedete posso ancora Migliorarla fino a 4 A quanto pare incrementa velocità dopo ogni colpo Ok vabbè Non ho altro quindi per ora può bastare così Ecco ho fatto qualcos'altro Direi proprio di no Perché non abbiamo nulla Non abbiamo lingotti nient'altro E vediamo cosa hai da offrire Tu come stai? Ho finito Doverremo più tardi Tornerò poi per vedere se devo affilare qualcos'altro C'abbiamo un'altra missione Un'altra missione Vedete che questi sono i simboli Che vedete sullo schermo Oh porg Miseria Via 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 Ok Ok Ma tutti sti crepaggi potrebbero chiuderli No Voglio dire La gente ci inciampa Qui capiamo parla molto velocemente Ora avranno finito E se hai altro da fare ti consiglio di farlo adesso Lasciamo che si calmi un po' Vabbè Potremmo parlare con Val che togliermi questo peso Il re non va da nessuna parte Quindi c'è Dovrei parlare con il re Sarebbe un po' Azzardato Però seguiamo la missione Vediamo le missioni Ragazzi Questioni di famiglia Raggiungi il capanno Completa la conoscenza di un vigente La consolazione Ok Quindi cominciamo questa qui Raggiungi il capanno di Falca Vediamo dove è questo bellissimo capanno 500 metri Quindi abbiamo da fare un pochetto di strada verso l'alto In pratica Vediamo un po' Sulla mappa dove è situato Sì dobbiamo fare un viaggettino ragazzi Allora intanto vediamo se nel percorso Ora puoi richiamare una cavallatura della ruota di azioni rapide O premendo Chiama cavallatura Oh ragazzi guardate subito A posto Così ci arriviamo in due secondi In pratica Oh finalmente perché appunto Questo è il bello che posso utilizzare gli animali E in più ragazzi Non so se tanto credo lo sapevate Ormai su quelle nuove ci sono gli animali Che puoi utilizzare per vedere dall'alto Quest'anno Gli altri anni c'erano le acule Quest'anno abbiamo il corvo Infatti vi posso far vedere Eccolo qui E da qui abbiamo la visore dall'alto In pratica E' stupendo secondo me Ed è utilissimo appunto Quando si devono fare dei combattimenti Si devono scoprire dove sono i nemici E tutto quanto ecco Intanto cerchiamo di far correre il cavallo Ottimo Vediamo cosa avrà da dirci Il nostro caro re Andiamo 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 Comunque bellissima la zona Poi la neve D'altro non di certo Dovrebbe essere situato in Norvegia Se non mi sbaglio E' la capanna Dove è situata Oddio ragazzi Mi sto perdendo Un attimo Mappa La mappa è la cosa più importante da avere Dovrebbe essere da questa parte La capanna Giusto? Dimmi di sì Dimmi di sì Sì, perfetto Certo che Vanno a scegliere zone dove abitare Molto Molto ben protette A quanto pare E sali E sali Il cavallo sta faticando Sta faticando Poverino Raggiungi la capanna Ci siamo quasi La capanna Ragazzi In pratica siamo arrivati Eccola Ci picchia Quanto è bella grossa Dovrebbe essere questa qui Che fa? Oddio Mamma mia Ecco che cadevamo Ma succedeva un casino Scendiamo E raggiungiamo la cara capanna Qui non ho capito se ci dovrebbe essere Ci dovrebbe essere il re Ma non ho ben capito sinceramente Ecco qua Vediamo che è da dirci Vi sta piacendo? Falca Amuram Amuram Falca Zitto mi serve silenzio per ascoltare la natura Giusto? Giusto? Amuram Amuram Va bene Svala Lei offre l'odio e viene accolta Per essere ascoltato il mio richiamo Oh Antichi Grande Odino Grande Freya Io vi rendo A questa in pratica è tipo una sagge rototessa Diciamo una roba del genere Perché Le sagge rototesse Non credo ci fossero Però Comunque sia una roba No Una cosa simile comunque Nel passato di tempo Cosa ti spinge a farmi visita? Sono Sono qui per un Risponso Su una questione Privata Vieni Vediamo 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 Ma devi pregare anche lui Non ho ben capito La sua mente è confusa Parla agli spiriti Temo che sia il suo ultimo inverno Ambe Ma sono Collega adesso dimmi perché sei qui Ho avuto una visione molto potente Forse è stata la furia della battaglia Si in pratica Lui ha rivisto Proprio quando aveva finito di salvare i propri amici Ha rivisto la scena Di suo padre Quando veniva ucciso Ho rivisto la scena di mio padre Ecco Infatti E non appena l'ho toccata è iniziata la visione Ecco Che gli ha ricordato tutto quello che era successo Con il lupo Si Questa è la scena iniziale in pratica Una figura Un vecchio ammantato Con un occhio solo voleva che lo seguissi Ah Il Supremo Ti chiama a sé Forse desidera parlare con te Farti avere un messaggio Un messaggio Puoi ritarti a vedere con chiarezza e contribuire a sciogliere i fili Annotati nella tua mente Non ci vorrà molto Aiuto E che cosa prepari Non dirla ad altri Hai già provato questa pozione Diciamo che cosa prepari Chiediamogli che cosa prepara È un elisir per liberare il tuo yuker e sciogliere i tuoi pensieri Grazie ad esso Un po' mistica la cosa Entra in una sorta di dormi vie E viagirai nelle terre del sogno Ciò che vedrai potrebbe disorientarti Ma devi tentare di ricordare ogni cosa Bevi 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 Se cerchi la vera comprensione Che cosa succederà ragazzi Niente secondo me Niente secondo me O qualcosa sì Oddio qualcosa sta succedendo Forse un forte mal di pancia Ah no Funziona A quanto pare ragazzi funziona Aiuto mia Mi Mi illumina da morire Potete vederla Eccoci qua Ci siamo risvegliati Non è successo praticamente nulla Ah Lui In pratica Si è svegliato No Si è risvegliato qua Mmm Non ho visto niente Perché è tutto inutile Ave Sicuramente Ti potessi essere svegliato In un'altra dimensione Non Non saprei come spiegarlo Sono nel mondo dei morti Vedete Ecco il lupo ragazzi Ecco il lupo Fratello quando sei arrivato E adesso in pratica dovrai seguirli L'inizio Di una nuova missione ragazzi Missione Missione che forse potremmo continuare più avanti Che ne dite? Ditemi se Se vi è piaciuto appunto questo Questo video E potrei in futuro Riportarne Altri Intanto Direi che noi Ci possiamo Fermare qui Eccoci qua ragazzi Alla fine del gameplay di Assassin's Creed Valhalla Ditemi cosa ne avete pensato Appunto E ditemi anche cosa pensate di questo Videogioco A parer mio Molto molto atteso Detto questo Io Non posso far altro che curarvi una Tranquilla Joyosa E serena Notte 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 Notte